Buon pomeriggio e ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città edizione culturale. Vediamo subito che cosa ci riserva la serata di quest'ultimo appuntamento settimanale. Cominciamo con la musica, musica etnica Yulabakunda, musica tradizionale fulana dell'Africa occidentale. Protagonista del concerto è Yul de Camara, virtuoso del ritti, un violino a una sola corda appartenente alla tradizione musicale delle genti fula, una popolazione nomade pastorale dell'Africa occidentale. Al folk club alle ore 21.30. Continuiamo con Sun, prospettiva 150, stralieri in patria, la vita di una donna alla ricerca della propria identità, monitorata con lucidità quasi entomologica, è destinata a smorzarsi nel lento scorrere dei deccelli. Si tratta di uno spettacolo che va in scena questa sera alla Cavallerizza Reale alle ore 21, mentre chiudiamo con una presentazione letteraria, anzi con un consiglio per gli appassionati della città che vogliono conoscerla meglio, non soltanto il centro storico ma anche gli altri quartieri. Si tratta della presentazione di una guida intitolata L'altra Torino, edita da Express Edizioni, viene presentata questa sera alle ore 18 alla Feltrilelli Libri e Musico, la guida dunque che propone percorsi inediti in tutti i quartieri ad esclusione del centro storico. Per quest'oggi è tutto, vi auguro una buona serata, un buon fine settimana, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, ci vediamo come sempre lunedì pomeriggio con i nuovi appuntamenti culturali dal web della città di Torino. Grazie a tutti.